Buonasera a tutti. Questa sera sulla sede del dentista di Telebue il professor Armando Gennaro, docente di chimica fisica industriale e elettrochimica dei materiali nanostrutturati nella laurea specialistica in scienza e ingegneria dei materiali. Buonasera. Buonasera. Ma professore è meglio fare il sindaco o il professore? Chiedo questo perché il mio ospite è stato per molto tempo sindaco di Abano Terme, quindi volevo sapere da lei quale preferisce delle due situazioni. Non c'è dubbio che fare il professore universitario costa meno fatica. Meno fatica? Eh sì. Addirittura? Ho vissuto un periodo dell'attività di amministratore con un grande impegno e anche con grande fatica, eppure avendo adesso molti impegni anche all'interno dell'università, per cui il tempo è sempre tiranno, anzi è sempre assente, però è meno fatica e soprattutto devo dire più gratificante. Ah, più gratificante fare il professore rispetto al sindaco. Come mai? Beh, non c'è dubbio. A parte che a me piace molto insegnare, per cui con gli studenti ho un bel rapporto, mi piace proprio l'attività didattica, però è chiaro che qui non ci sono le difficoltà che la politica impone, insomma, delle mediazioni, del trovare, delle soluzioni ai problemi. Per carità, anche nell'attività di ricerca sono portato ogni giorno a dover risolvere dei problemi, però un conto è risolvere i problemi di carattere scientifico e culturale, un conto è risolvere i problemi della convivenza umana, che sono sempre più complessi e più difficili da risolvere. Comunque so che non si è tenuto lontano dalla politica, nemmeno in ambito universitario, dal momento che è nel senato accademico dell'università dal 2001. Sì, questo è vero e quindi è appunto un modo, un indole c'è sotto sotto. Un indole c'è sotto sotto, quella per la politica. Esprima così una preferenza tra vecchio e nuovo ordinamento, visto che comunque conoscerà anche meglio, sicuramente con più chiarezza, le normative che li regolano entrambi. Io sono un grande oppositore del 3 più 2. Credo che sia stato un grande disastro per l'università italiana, o no, piano, la battuta è giusta, è chiaro che uno deve cominciare con qualche distinco. In molti corsi di studio probabilmente il sistema 3 più 2 può avere un senso, in molti altri, in particolare quelli dell'area scientifica e tecnologica, senz'altro non ce l'ha. Diverso era il discorso, ma c'era già la situazione precedente, tra diploma e corso di laurea. Può esserci un diploma triennale con una caratteristica professionalizzante, che risponde alle esigenze specifiche delle professioni, ma un corso di laurea che dia quella capacità di innovazione culturale che il laureato deve avere, deve ragionare inevitabilmente su un periodo di 5 anni, con una struttura unica in 5 anni, perché, parlo ovviamente per l'area di cui ho competenza, ci vuole prima la possibilità di spendere uno o due anni per una solida formazione di base, e poi su questa costruire il castello delle formazioni professionali, specialistiche e quant'altro. 3 più 2 non lo consente, perché in 3 anni bisogna comunque fare un prodotto finito, cioè bisogna dare una formazione, e questo ha sacrificato formazione di base, ha sacrificato spazi culturali, dopodiché noi ci abbiamo aggiunto del nostro di peggioramento, perché allora in 3 anni si vuole insegnare tutto e anche di più, per cui si insegnano in maniera frammentaria molte cose e quant'altro. Tutto questo comporta un ritmo di insegnamento, per cui ordinamenti semestrali, anzi trimestrali, anzi bimestrali, fortunatamente in Senato Academico anche lunedì scorso abbiamo ribadito che almeno i bimestri devono essere cancellati, ma tutto questo, ripeto, a scapito della capacità di apprendimento da parte degli studenti. Per quanto riguarda le lauree scientifiche, lei ha affermato che diminuiscono gli iscritti, ma l'industria continua a chiedere laureati, chi ha il titolo in tasca riesce a trovare lavoro entro 3 mesi, ma quindi l'avvenire per un laureato in discipline scientifiche è pressoché assicurato? Dunque, il dato sui 3 mesi riguardava un'indagine fatta con i laureati in chimica industriale qualche anno fa, il discorso però è abbastanza generalizzato, è vero che c'è una disponibilità di laureati in materie scientifiche inferiori al fabbisogno della società. Tanto è vero che è partito quest'anno un progetto che si chiama progetto lauree scientifiche che il Ministero dell'Università ha finanziato e concordato assieme a Confindustria e assieme alla conferenza dei presidi delle facoltà di scienze, proprio per incentivare l'adesione e l'iscrizione di maggior numero di studenti alle lauree scientifiche, in particolare le lauree della classe di matematica, di fisica e di chimica, perché in Italia ci sono troppi pochi laureati in queste tre discipline e l'Italia sta perdendo colpi nella competitività mondiale, nella capacità di stare al passo con l'innovazione scientifica e tecnologica proprio perché ha pochi laureati in queste tre aree. Certo che il termine chimica, così nel linguaggio comune, non gode certo di una bella fama, forse sarà per colpa di episodi come Bhopal, come Seveso, come vino al metanolo, secondo lei perché la chimica non ispira mai grande fiducia? C'è certamente questo contributo, cioè ci sono alcuni eventi che danno una cattiva nomea alla chimica, c'è molto di più però il fatto che viene insegnata facendola odiare alla scuola superiore. Allora per un giovane si mettono insieme queste due cose, una materia odiosa, poco appassionante, poco entusiasmante e alcune situazioni che oggettivamente danno discredito. Anche se io affermo e credo con convinzione, no anzi con convinzione senz'altro, e anche con adeguata ragionevolezza, che inquinano molto di più i non chimici, penso a molte industrie metallomeccaniche per esempio, che fanno attività inquinante dove non c'è la competenza chimica che possa risolvere il problema e prevenire il problema, che non le industrie chimiche. Dopodiché è chiaro che qualche volta quando succede un disastro in un'industria chimica, quello è un disastro su serio, ma è come quando cade un aeroplano, allora il numero di morti, però tutti sanno e dicono che il viaggio in aereo è molto più sicuro che il viaggio in automobile o il viaggio in treno, però quando succede, succede. Adesso non inferiamo troppo sulla povera chimica, tre parole per tesserne un elogio, tre parole belle per descrivere la chimica. La chimica è il sostegno alla qualità della vita alla quale noi oggi siamo abituati, se non ci fosse la chimica noi saremmo nudi e all'età della pietra. Di fatto l'uomo è uscito dall'età della pietra quando ha imparato a fare il primo composto chimico, il bronzo, non è proprio un composto, ma insomma ha usato un po' di chimica per fare il bronzo. A proposito di usare la chimica per migliorare l'aspetto, lei crede che il silicone abbia un suo valore da questo punto di vista? Ma noi chimici il silicone lo usiamo per preparare molti materiali che servono a tante cose, ma non per fare estetica. Non per fare estetica. E credo che tutto sommato, per carità anche l'estetica è un valore aggiunto, però forse tra i meno importanti della qualità della vita. Tutto quello che noi usiamo quotidianamente è frutto della chimica. Dal cellulare ai vestiti, agli elettrodomestici, al cibo. Io dico spesso agli studenti, noi portiamo ormai centinaia di milioni di jeans, vengono fabbricati all'anno e tutti li portiamo. I jeans sono colorati con un colorante che si chiama indaco, che una volta veniva prodotto artificialmente. Per produrre l'indaco artificialmente c'erano centinaia di migliaia di ettari di terreno coltivati a indaco per estrarre dai fiori questo colorante, avendo colori poi mai uguali l'uno all'altro. Oggi l'indaco si produce chimicamente in maniera pulita ed è un colorante affidabile. Abbiamo restituito all'agricoltura e quindi alla possibilità di sfamare il genere umano, ripeto, milioni di ettari. Milioni di ettari. Ecco, questa è una delle cose che la chimica riesce a fare. Secondo lei, nei programmi televisivi o nei media in generale, la divulgazione scientifica com'è nei confronti della chimica? È poco rappresentata, non trova molto spazio. È la divulgazione scientifica che manca, quella chimica poi ancora in modo più particolare. Effettivamente c'è un deficit di comunicazione e di divulgazione scientifica, probabilmente abbiamo colpa anche noi scienziati o studiosi di materie scientifiche, però non c'è dubbio che c'è un gap molto spaventoso da vincere. E questo ovviamente poi crea i preconcetti, le difficoltà, perché se uno non familiarizza con termini, con minimo di alfabetizzazione, così è sempre arabo sta roba e quindi lo vede sempre con riluttanza. E questo è un grave danno. Grazie a tutti.